Ragazzi, buonasera, oggi vi mostro finalmente la mia tier list delle armi della stagione 16 di Apex. Questa volta ho utilizzato un modo superandi un po' diverso dal solito, perché se nelle scorse stagioni le tier list delle armi le realizzavo sul momento, proprio durante la registrazione del video, e quindi compiendo anche varie scelte, dettate dal mood della giornata, diciamo, questa classifica invece l'ho fatta per conto mio prima della registrazione del video, pensandoci per bene, prendendomi tutto il tempo necessario, e ce l'ho qua pronta di fronte a me nel secondo schermo. Quindi in questo video andrò semplicemente a copiarla, a posizionare le armi all'interno dei vari rank, ovviamente dandovi una spiegazione. Inoltre mi sono anche fatto aiutare da degli amici che mi hanno dato la loro tier list, ma soprattutto ho chiesto aiuto a voi e alla mia community tramite dei sondaggi su YouTube, che dopo vedrete. Se dopo aver visto la mia volete fare anche voi la vostra tier list, vi lascio il sito che sto utilizzando in descrizione e nel primo commento. La potete fare anche da telefono senza problemi, non ci mettete nulla, e se vi va di farmela vedere potete condividerla con una storia su Instagram taggando il mio profilo e io vi rispondo, vi dico cosa ne penso e vi riposto. Come sempre ragazzi potete supportare il video con un mi piace, con un commento per l'algoritmo, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale per aiutarmi a raggiungere i 100k, e se vi manco, quando non posto, se volete passare più tempo insieme a me, sono live tutti i giorni su Twitch, link nei commenti. Bacioni, buona visione! Ovviamente raga, neanche a dirlo, le categorie con più hype, quindi SMG, assalto, le lasciamo per ultima e partiamo con qualcosa di tranquillo, con le pistole, e in particolare con la P2020 che vado subito a posizionare in tier P2020. Non è una sorpresa immagino perché l'avevate visto già da prima. E la metto per ultima nonostante questa stagione sia tornato all'Hummerpoint, che è l'OPAP che fa fare alla P2020 e alla Mozambique più danni quando il nemico non ha lo scudo. Non è male la P2020 con l'Hummerpoint, ma punto 1 raga l'Hummerpoint è assurdamente difficile da trovare ora che è leggendario, ma roba che in due settimane di stagione l'ho trovato... boh, forse due volte. Ma poi soprattutto il fatto è che tendenzialmente l'Hummerpoint, a meno che tu non faccia una sculata, non lo trovi a inizio partita quando potresti avere una P2020 e quindi potresti averne bisogno. E se trovi un Hammerpoint, per dire in top 5, intanto in top 5 non avrai la P2020 a meno che tu non sia un pazzo, avrai invece un'altra arma, magari più forte come può essere un R99 con degli accessori, caricatore viola e via. E quindi non è che torni indietro per prenderti una P2020 solo perché hai trovato l'Hummerpoint, che probabilmente non te la rende neanche più forte dell'arma che già hai. Ripeto, senza Hammerpoint è di gran lunga l'arma peggiore del gioco. Con l'Hummerpoint sicuramente non è l'arma peggiore del gioco, non è neanche vicina a esserlo. Però l'Hummerpoint è troppo difficile da trovare e soprattutto non lo trovi mai quando ti servirebbe, cioè all'inizio della partita. E quindi la P2020 purtroppo, nonostante il ritorno dell'Hummerpoint, resta in TRP2020. Piccola nota a margine, secondo me l'Hummerpoint aveva molto più senso come op-up epico perché appunto lo usi su armi che trovi e utilizzi solamente a inizio partita. Ah, questa volta le armi da drop le ho messe insieme alle armi della loro categoria, quindi Re-45 con le pistole, Krabber con gli sniper e via così. E la Re-45 la vado a mettere senza troppi indugi. In TRS, stagione scorsa avevo dei dubbi, l'ho rivalutata tantissimo raga e spacca, cioè adesso non c'è una singola volta in cui io la trovi senza raccoglierla. È una pistola, ma avendo il perfora scudi, che è l'op-up che ti fa fare più danni allo scudo, è comparabile a livello di DPS, di danni per secondo, di performance nei fight da vicino, anche a un SMG, a una mitraglietta, ma tenendo tutti i pregi delle pistole, quindi più movement, più libertà nel movimento, sei più rapido quando sei in mira con una pistola, ma soprattutto raga è precisissima quando non miri. Poi non hai in culo, lo asiri da lontano che manca una carabina. E infine, ultima pistola, la Wingman, che sì è ancora classificata come pistola, nonostante usi colpi sniper, quindi no, non la potete usare nelle lobby only sniper, nelle mie private. Ci ho riflettuto a lungo e in verità sono ancora in dubbio, ma la vado a mettere in grado A. Ovviamente ero in dubbio con il grado S, e secondo me ci strebbe benissimo in grado S, e non escludo di cambiarla alla fine. È l'arma probabilmente più schillata del gioco, più difficile da usare, ma cavolo se la sai usare poi può fare tutto, corto, medio, lungo raggio. Stravolgo l'ordine che avevo in mente e raga facciamo gli shotgun, anche vi ricordo, questa stagione sono stati tutti potenziati, hanno reso più facile fare entrare più pallottoloni. Più pallottoloni, danni maggiori, sono molto più consistenti rispetto a prima. E questa è veramente la categoria su cui ho meno dubbi, quindi ve li posiziono subito. P-Skipper grado S, Mastiff grado A, Eva 8 grado B e Mozambique grado C. Tra l'altro mi avete anche confermato quest'ordine tramite il sondaggio su YouTube. Il P-Skipper in particolare, raga, secondo me non ha senso. Non solo è lo shotgun più forte, ma credo che sia almeno nella top 3 delle armi più rotte di questa stagione. Non è mai stato così consistent, raga, ogni hit caricata da vicino fa i 90 più, non ci sono c***o. Il Mastiff anche, raga, è fortissimo, migliorato tantissimo rispetto a stagione scorsa, ma lo metto un gradino sotto al P-Skipper. Un altro gradino sotto l'Eva 8, però raga siamo là veramente perché va a preferenza, cioè io preferisco il Mastiff, ma secondo me siamo lì, eh. La Mozambique la metto in 5, questa tier list tengo conto di un mix tra con Hammerpoint e senza, probabilmente con Hammerpoint è meglio sia dell'Eva 8 che del Mastiff, non credo sia comunque a livello del P-Skipper. Però raga, discorso che ho fatto prima per la P-2020, l'Hummerpoint è introvabile, ha maggior ragione a inizio partita quando potresti averne bisogno anche sulla Mozambique e quindi... Piccolo intermezzo, vi rubo due secondi. Manager NFT è un fantacalcio online in cui i giocatori sono carte NFT di tua esclusiva proprietà. Se avete più di 18 anni e siete interessati a provare questo gioco, trovate il mio link nei commenti che vi darà vari bonus, tra cui anche dei pacchetti gratuiti, che vi potrebbero anche andare così. Sai che mediamente già oscilla questa cartina qua tra i 150 e i 300 dollari. Passiamo agli sniper, raga. Kraber ovviamente è grado S, non credo di doverlo giustificare. Radio S e Sentinel sono probabilmente le due armi su cui sono stato più combattuto, perché all'inizio le avevo messe entrambe in pari in grado A. Ma poi Seba ha insistito affinché io spostasse il Radius più in alto. Ed effettivamente ci sta, quindi Radius lo sposto in grado S perché non è nemmeno uno sniper. È un fottuto laser HitScan che pure il mio cane riuscirebbe a usare. Se prima dicevamo che la Wingman è l'arma più schillata, più difficile da usare di Apex, ecco il Radius è sicuramente il contrario, soprattutto perché appunto è HitScan, dove tu spari il colpo arriva. Andando sempre avanti con i paragoni, Sentinel e Lombo sono molto diversi tra di loro. Il Sentinel è di fatto l'unico sniper bolt action del gioco al di fuori del Kraber. Molto lento a sparare, ma danni elevati, mentre il Lombo è più simile a un tiratore scelto. Cadenza più alta rispetto al Sentinel, spara più velocemente, ma danni minori. E quindi il Sentinel finisce più in alto in grado A perché nella sua categoria non ha concorrenza al di fuori del Kraber, che però appunto sta più in alto in grado S. Il Lombo finisce in C perché, raga, non è male, ma essendo che è più simile ai tiratori scelti, ha molta più concorrenza. Non è scarso, ma ha questo problema di essere un ibrido tra uno sniper e un tiratore scelto, però se vuoi uno sniper vai sul Sentinel che come sniper è più forte. Se vuoi un tiratore scelto, come adesso vedremo analizzando i tiratori scelti, ce ne sono di migliori. Detto ciò, se vi piace, se vi ci trovate bene, è comunque sicuramente forte e utilizzabile. Ah, e piccola chicca, quella degli sniper è stata l'unica categoria in cui voi non siete stati d'accordo con me, infatti avete messo prima il Sentinel e poi il Radius. E quindi andiamo con i tiratori scelti, raga, sull'arco ho zero dubbi perché era da TRS e prima di finire nel drop, quando l'hanno messo nel drop l'hanno potenziato, quindi è ulteriormente ancora di più da TRS. Il G7 Scout, secondo me al di fuori dell'arco, è il tiratore scelto più forte del gioco e infatti lo vado a mettere in tier A. Il 30-30 non è affatto male, ma partendo dal presupposto che trovo il G7 migliore, deve finire in grado B o in grado C. Ed essendo che io non lo so assolutamente utilizzare, lo metto in grado C. C'è qualcosa che non va tra me e quest'arma, non riesco a prendere i colpi, soprattutto quando la gente si muove lo trovo veramente difficile. Il triple take lo vado a mettere in grado D. Molto poco consistent, soprattutto da medio-lungo raggio, spesso e volentieri non fa i danni massimi, utilizza tre colpi per ogni volta che spari e raga non è una cosa da poco, visto che è un'arma che si usa appunto da medio-lungo raggio. Non è che puoi occupare 3, 4, 5 slot dello zaino per le munizioni del triple take. È esagerato. Se parliamo delle sue prestazioni da vicino e mi dici, eh ma lo puoi usare anche come shotgun, io ti dico anche il sentinel, con la differenza però che se col sentinel colpisci sei sicuro dei danni che fai. Se parliamo delle sue prestazioni da medio-lungo raggio, che dovrebbero essere le più importanti essendo che è un tiratore scelto, raga secondo me è ancora peggio. Devi caricare il colpo aspettando relativamente abbastanza tempo per fare 69 danni al corpo, che sono meno di quelli che puoi fare con altre armi, di nuovo il sentinel ad esempio, senza il bisogno di caricare. Alla fine il triple take è un po' tiratore scelto, un po' sniper, un po' shotgun e ripeto a me le armi ibride non piacciono perché preferisco giocare armi che siano top in quello che fanno, ma il triple take appunto viene anche ulteriormente penalizzato da alcuni difetti, soprattutto quello delle munizioni. Andiamo con le LMG con le mitragliatrici e io vi piazzo la Rampage in grado A, la Spitfire in grado C, ho dovuto ricontrollare perché su questo sono stato molto combattuto e attenzione Devotion e Hellstar al pari del triple take in grado D. La Rampage raga secondo me è completamente broken, uscita dal drop un po' depotenziata sì ma non ha cambiato poi così tanto e quello che fa veramente tanto secondo me è la sua meccanica di ricarica con la Thermite che oltre a potenziarla tanto ad aumentare il ratio di fuoco, i DPS, ti permette di rompere le porte che non è roba da poco. Ma poi è devastante da lontano, è letteralmente ferma, è forte anche da vicino e se vogliamo le LMG da vicino sono più valide di stagione scorsa perché gli assalto sono stati depotenziati quando spari senza mirare. Le LMG sono uguali a prima. Il Rampage per tutti questi motivi secondo me è l'LMG migliore del gioco. Per la Spitfire raga vi potrebbe sembrare troppo cattivo il grado C ma capirete tutto meglio quando andrò a posizionare anche le mitragliette e gli assalto. In ogni caso sicuramente è ancora devastante da vicino ma con il nerf che l'hanno fatto ancora qualche stagione fa ha perso veramente tanto 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 da lungo raggio rispetto ai tempi d'oro. Per quanto riguarda l'Hellstar secondo me è l'arma più sottovalutata del gioco, non che sia tra le più forti ma secondo me non è scarsa come la community la disegna. Voi stessi nella classifica che vi ho fatto fare l'avete votata in due probabilmente. All'inizio infatti l'avevo messa in C con la Spitfire in B poi proprio per motivazioni che dopo capirete quando piazzerò anche le altre categorie di armi ho dovuto abbassare. Devotion, cos'è successo? Di fatto niente perché è uguale alle scorse stagioni. La Devotion è tra le armi peggiori secondo me senza il turbocompressore e col turbocompressore diventa una signora arma, diventa veramente forte. Faccio lo stesso discorso che ho fatto per P-2020 e Mozambique, il turbocompressore è difficile da trovare. Probabilmente più facile da trovare dell'hammer point ma comunque abbastanza difficile da trovare. Nel momento in cui lo trovi spesso e volentieri hai altre armi magari con accessori viola o oro e non ne vale la pena di andare a cercare un Devotion per cui tra l'altro non avresti nemmeno gli accessori. Quindi quello che cambia rispetto alle altre stagioni, il motivo per cui è sceso così in basso nella mia tier list è che secondo me è molto più sensato dare più peso alle sue prestazioni senza l'opap. Poi ovviamente raga neanche a dirvelo, ovviamente col turbocompressore non è mai un'arma da tier D. Però senza turbocompressore è abbastanza vomitevole, il Devotion ha sempre avuto questo problemino rispetto all'Avok. L'Avok è utilizzabile, anzi è molto forte anche senza turbo. Il Devotion è abbastanza turbocompressore dipendente. Fucili d'assalto e qui vi stupisco, il Nemesis lo vado a mettere in grado S, tra l'altro vi ho fatto anche un sondaggio sull'arma più rotta della stagione in generale e neanche a dirlo ha vinto il Nemesis. Secondo me per il Nemesis vale in parte il discorso che faccio sempre per le armi nuove, ossia che appena uscite vengono overipate, cioè anche il 30-30 sembrava broken la prima settimana semplicemente perché lo usavano tutti. Però ecco, credo che il Nemesis si meriti il grado S anche valutandolo razionalmente. Non mi dilungo, non ci spendo troppe parole, se volete sapere la mia su quest'arma in modo approfondito vi rimando a questo video. E se il Nemesis era tra virgolette scontato in grado S è perché ho detto vi stupisco con i fucili d'assalto perché vado a mettere in grado S, signori, anche la carabina. Nonostante il nerf di un danno per ogni colpo e nonostante il nerf ai fucili d'assalto quando spari da vicino senza mirare. Il danno in meno per ogni colpo raga non si sente perché per come è fatta la carabina sparo numeri a caso, se prima ti servivano 7 colpi per shottare una persona e adesso te ne servono 8, ok. Cioè nel momento in cui lo stai laserando gli dai anche quel colpo in più. Nei fai travvicinati la differenza si sente, andando di carabina ma di fucile d'assalto in generale in questa stagione contro uno con un SMG sei penalizzato. È meno versatile di prima sì ma secondo me è comunque di grado S quindi pensate quanto cavolo era broken prima. Il flatline invece lo vado a penalizzare, infatti lo abbasso di un grado rispetto alla carabina ma rispetto al grado che ho sempre dato al flatline, infatti il flatline è sempre stato da grado S secondo me. Questa stagione è da grado A perché da grado A? Perché per il flatline secondo me si sente di più il nerf che hanno fatto i fucili d'assalto. Nel senso il flatline tra tutti gli assalto fino a stagione scorsa era probabilmente il più performante nei fai travvicinati, quindi il fatto che abbiano nerfato gli assalto nei fai travvicinati lo penalizza di più rispetto agli altri. Lavo craga, io ci ho riflettuto a lungo e sono molto dispiaciuto dalla scelta che ho fatto alla fine perché all'inizio l'avevo messo in grado A al pari del flatline, poi l'ho spostato in grado B sia ascoltando il parere dei miei amici sia seguendo quello che avete votato voi nel sondaggio. Resta ancora una delle mie armi preferite e secondo me il grande plus, il grande pregio dell'Avok rispetto al Devotion che è l'altra arma energetica che utilizza il turbocompressore è appunto, come ho detto prima, di non essere turbocompressore dipendente. L'Avok è molto forte anche senza turbocompressore, anzi alcuni tra cui io stesso si trovano meglio senza turbocompressore. Però anche qua, come ho detto per il flatline, essendo che l'Avok era un assalto molto performante soprattutto nei fight ravvicinati, il nerf agli assalto nei fight ravvicinati si sente parecchio. Per quanto riguarda l'EMlock, penso che l'opinione generale sia che è l'arma da drop un po' più deludente di questa stagione, ma detto ciò raga, secondo me è da grado S tutta la vita. Fino a stagione scorsa avevamo tre SMG che stavano più o meno sempre in pari, ossia il Volt, il Car e il 99. Qualcuno poteva preferire una, qualcuno l'altra, eravamo là, ecco, andava a preferenza. In questa stagione hanno avuto la malsana idea di potenziare l'R99, senza alcun motivo nessuno chiedeva un suo buff, non si sa da dove gli sia uscito, ma hanno potenziato l'R99 di un danno per ogni colpo. Che può sembrare poco detta così, ma considerando il ratio di fuoco assurdo che l'R99 impatta veramente tantissimo. Poi bisogna anche aggiungere che questa stagione, come ho detto ormai 80 volte, gli assalto sono stati depotenziati da vicino, quindi le SMG, tutte le SMG compresa l'R99, hanno acquisito ancora maggior valore. E appunto se prima si poteva discutere su quale fosse l'SMG migliore tra queste tre, secondo me dopo il buff dell'R99 non c'è storia, quindi Volt e Car al pari in grado A. L'R99 all'inizio l'avevo posizionata sopra queste due in grado S. Ma poi ho fatto di più. Ci ho riflettuto raga, e questa stagione l'R99 è talmente rotta che secondo me non può essere paragonata a nessuna delle armi che stanno in grado S. Motivo per cui ho creato questo grado al di sopra del grado S, il grado R99, che poi rende la tier list anche più bellina perché abbiamo i gradi dall'S al D, la P2020 sotto e l'R99 sopra. E questo risponde anche al quesito, Nico, secondo te qual è l'arma più rotta di questa stagione? Ribadisco, l'R99 era meta già prima, ora che l'hanno potenziata è no sense, e secondo me non dura più di una stagione in questo stato. Ma penso che più o meno tutti voi siate d'accordo, e infatti l'R99 ha stravinto il sondaggio delle mitragliette. Il Prowler è molto forte, soprattutto dopo che l'hanno potenziato stagione scorsa, però a me non piace, o più che altro non lo so utilizzare, quindi al momento lo metto in grado B sotto al volte al car. Se dovesse tornare prima o poi il selettore di fuoco, probabilmente questa classifica si stravolgerebbe completamente. Attenzione, secondo me il Prowler ha già in questo momento le potenzialità di essere al pari di un car, però appunto io non lo so usare, non mi piace, la tier list è la mia, e quindi lo penalizzo. Ultima arma, ci siamo arrivati, l'Alternator, realisticamente in questa tier list, per essere coerenti, probabilmente dovrebbe finire in grado C. Ma no. Mi prendo questa libertà, perdonatemi, ma mi sentirei troppo in colpa lasciarla così in basso, è probabilmente tra le mie tre armi preferite almeno. Ci ho fatto le 25 kill su Mirage e questa abbastanza. Questo è il risultato finale della mia tier list, ne sono convinto al 100% assolutamente no, ne sono convinto un po' di più delle altre stagioni? Direi di sì. Le posizioni su cui sono maggiormente in dubbio ve l'ho detta alla fine, cioè secondo me il Prowler potrebbe stare tranquillamente in grado A se solo lo sapessi usare. Probabilmente il 30-30 potrebbe stare in grado B. Probabilmente l'Eva 8 potrebbe stare in grado A al pari del Mastiff. Ancora, ad esempio, l'Helstar potrebbe stare in C. Ah e raga, ultima cosa che mi sono dimenticato di dire prima, le armi non sono ordinate all'interno dei vari tier, cioè non reputo il Volt migliore del Carr. O magari sì, però insomma l'ordine che vedete qua non c'entra niente, è tutto a random. Se volete fare anche voi la vostra tier list trovate il sito che ho utilizzato io in descrizione e nei commenti. Se vi va poi potete anche condividere la foto della tier list su Instagram con una storia taggando il mio profilo per venire ripostati. Stavolta vi riposto e rispondo a tutti, voglio uno spam di storie in cui mi taggate. Ragazzi, quando non avete nulla da fare, quando volete un po' di compagnia, mi trovate live tutti i giorni su Twitch. Vi ringrazio tantissimo per la visione, se il video vi è piaciuto, vi è intrattenuti, vi è stato d'aiuto qualsiasi cosa, supportatelo con un mi piace, iscrivetevi al canale per aiutarmi a raggiungere i 100k, ma soprattutto per non perdervi i prossimi video e buona serata.